Benvenuti ragazzi in questo nuovo video, io sono Xstarter e oggi ragazzi sono qui su GTA 5 Online per fare lo spirit test tra la Cuccio Drag, non mi interessa che è sbagliato la pronuncia del nome contro la Bati 801RR, non mi ricordo se è RR o senza RR tra l'altro non ricordo le differenze tra queste due versioni di Bati comunque in ogni caso sono qui a fare lo spirit test tra la Cuccio Drag e la Bati non solo farò lo spirit test ma farò anche altri due test, ovvero quello di frenata e di manovrabilità che se seguite da tempo i miei video su questi test contro veicolo contro veicolo capirete già di che cosa sto parlando, altrimenti comunque tranquilli ve lo spiego man mano in che cosa consiste questo test di frenata e manovrabilità allora ragazzi andiamoci subito a piazzare per fare lo spirit test tra questi due veicoli magnifici ovvero la Cuccio Drag e la Bati 801RR partiamo dal presupposto Drag, che cosa significa? il termine Drag è diciamo usato per fare delle gare che si svolgono in un tracciato lungo un quarto o un ottavo di miglio se avrete visto il film Fast and Furious, soprattutto all'inizio, capirete appunto meglio di cosa sto parlando altrimenti non avete capito un cazzo questo tipo di gare sono basate tutto sull'accelerazione quindi se vedete che la Cuccio Drag è molto veloce e potente nell'accelerazione è proprio per questo ed è anche per questo che ha la parte posteriore allungata stile Batman perché appunto queste moto sono fatte proprio per queste determinate gare avendo questa parte posteriore allungata la moto non può impennare e come dovreste sapere, ma ve lo spiego comunque io se la moto impenna ha una trazione, un attrito minore con l'asfalto di conseguenza va anche più veloce e i giri del motore aumentano madonna ragazzi ma quanto sono intelligente, ho studiato eh allora comunque in ogni caso, siccome la moto non può impennare ho deciso di fare due test di velocità uno dove io e il mio compagno ci accovacciamo e uno dove io mi accovaccio perché posso fare quello e lui impenna per vedere come va ecco qui quindi partiamo dopo due minuti di premessa partiamo con lo spirit test potete vedere che partiamo entrambi allo stesso tempo vi ho rallentato la clip così potete notarlo meglio notiamo subito che la Bati parte subito con l'accelerazione potentissima, strapotente ovviamente ripeto questo è il test dove entrambi siamo accovacciati però dopo la cucciolo drag la supera violentemente c'è un distacco enorme che si va ad ampliare sempre di più come potete vedere la Bati li vanno indietro e diciamo alla nostra cara Bati ciao ciao bambina, ciao bella quindi boh vince la cucciolo drag in questa sfida dove noi due siamo accovacciati vediamo invece come se la cava la Bati con l'impennata quindi vediamo, partiamo allo stesso tempo nuovamente io ho fatto una piccola falsa partenza vediamo 3, 2, 1, via partiamo allo stesso tempo la Bati parte impennando cattivamente proprio ora io accelero di brutto l'ho superata ma vediamo intanto che la Bati appunto continua a impennare e vediamo che già ha un risultato migliore di quello di prima insomma non la sto distaccando più di tanto anzi mi sta raggiungendo ragazzi guardate mi sta raggiungendo nuovamente mi sta superando siamo allo stesso livello mio dio ci siamo andati a schiantare siamo morti ho rifatto nuovamente il test per vedere come andava a finire se era solamente una casualità e invece la Bati continua a raggiungermi impennando quindi la Bati diciamo che ha la stessa velocità della cucciolo impennando anzi forse anche di più ma bisogna comunque avere un rettilineo molto più lungo in ogni caso io per me la sfida della velocità l'ha vinta la cucciolo per il semplice motivo che impennando tu non hai neanche tanta manovrabilità ora invece andiamo a fare il test di frenata e che cosa consiste io parto da un inizio di quelle strisce bianche lì per poi alla fine dall'altra parte dell'aeroporto ci sono sempre le strisce bianche e alla fine di quelle strisce bianche io inizio a frenare e quando si ferma la moto scendo dalla moto traccio una linea davanti appunto al muso della moto per poi appunto capire che la moto si è fermata lì ora poi faccio scendere il mio amico che si chiama Mike e lascio anche il canale suo in descrizione lo saluto che lo ringrazio anche tantissimo per avermi aiutato lo faccio mettere sul posto sulle linee che ho tracciato e rifaccio il test con la Bati 801 rifaccio il test qui velocizzo tutto e alla fine di quelle strisce bianche potete vedere che inizia a frenare e quando si ferma la moto allora vabbè mi sono mosso un po' sinceramente però comunque si vede tranquillamente la differenza sostanziale la Bati si è fermata qui e la Kuchou si è fermata molto più avanti vedete qui si è fermata invece la Kuchou diciamo che la distanza tra le due moto è quanto una limousine dobbiamo considerare anche il fatto che la Kuchou arrivava a una velocità molto più elevata di quella della Bati ma comunque non giustifica il fatto che i freni fanno schifo in ogni caso per me questa sfida l'ha vinta la Bati intanto siamo già partiti con il test di manovrabilità in che cosa consiste? consiste nell'affrontare delle curve a massima velocità senza mai frenare e senza mai decelerare ecco qui le curve che stiamo affrontando diciamo che la Kuchou se la cava abbastanza e grigiamente diciamo che per un filo non va fuori strada anzi forse si un po' ma per un filo comunque non va proprio sul terriccio ecco in ogni caso la Kuchou per quella velocità che comunque raggiunge si è dimostrata abbastanza manovrabile andiamo a vedere invece la Bati come si comporta in questo tracciato io cerco di impennare il più possibile il modo da raggiungere la velocità massima possibile per la Bati in modo comunque da arrivare a velocità massima per eguagliare il più possibile la Kuchou quante volte ho detto il più possibile? contatelo e scrivetelo nei commenti possiamo comunque vedere nel frattempo che la Bati se la cava molto ma molto bene cioè è molto manovrabile la Bati in ogni caso mi sento di dare tre quarti di punto alla Bati e un quarto di punto alla Kuchou per il semplice fatto che dobbiamo sempre calcolare che la Kuchou arriva a velocità massima seppur noi con la Bati abbiamo impennato la Kuchou comunque non ha bisogno di impennare per arrivare a una velocità elevata mentre la Bati si quindi mi sento appunto di dare questo punteggio beh comunque ragazzi fatemi sapere secondo voi chi ha vinto che cosa insomma chi secondo voi ha vinto lo spirit test chi quello della frenata e chi quello della manovrabilità perché diciamo sono un po' alla pari spero che il video vi sia piaciuto iscrivetevi al mio canale, link in descrizione c'è anche il canale di Mike, l'aiutante di questo video quindi lascio anche il suo canale ragazzi lasciate like, iscrivetevi e noi ci vediamo al prossimo video e ciao ciao